Lettura, Vangelo, e Commento Dal libro del profeta Ezechiele Così dice il Signore Dio. Se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere della morte del malvagio. Oracolo del Signore. O non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva. Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate, e a causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà. Voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello, stupido, dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice, pazzo, sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Parola del Signore Lode a te o Cristo Commento Ciao a tutti e bentornati sul canale. Che Dio vi benedica e grazie di essere qui con me. Cominciamo con il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Apri i nostri occhi, Signore, perché noi possiamo vedere le meraviglie della tua legge, mentre, leggendo le scritture, noi ti benediciamo, Signore, perché ci insegni i tuoi decreti. Oggi il Signore ci parla di ciò che avviene nei nostri cuori, invitandoci così alla conversione. E poiché il comandamento dice non ucciderai, Gesù ci ricorda che ci sono davvero molte forme che possono togliere la vita alle persone che ci sono vicino. Questo può accadere, per esempio, quando nel cuore alberga un'ira eccessiva e noi trattiamo il prossimo senza rispetto o addirittura insultandolo o anche ignorandolo completamente, togliendo a lui proprio la parola. Il Signore ci invita quindi ad essere figli e ad amare con un amore speciale e le sue parole sono «Lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello». Cioè la fede che noi professiamo nella liturgia dovrebbe influire praticamente nelle nostre vite di tutti i giorni, in maniera tangibile e sensibile. Per questo Gesù ci chiede di riconciliarci con i nostri nemici. E un primo passo per cercare di riconciliarci con le persone che magari ci hanno fatto del male è proprio la preghiera, quella preghiera per i nemici, come Gesù chiede. E questo spesso ci risulta, ahimè, difficile e per cercare di superare questo aspetto potremmo tentare di ricordare proprio nella nostra immaginazione la figura di Gesù nel momento della sua crocifissione perché questo ci aiuta a comprendere come noi siamo stati perdonati e ci spinge verso il perdono che possiamo concedere agli altri. A volte però le cicatrici sono molto profonde e è difficile pensare di poter pregare per quella persona che ci ha fatto tanto male. Allora semplicemente possiamo dire, signore, pensaci tu, fai tu quello che io non riesco a fare o semplicemente dicendo, signore, benedicila poiché io non riesco a pregare per questa persona. Ora, dobbiamo cercare di comprendere che le ferite che noi abbiamo subito nella nostra vita, Gesù le può risanare. Poiché lo sguardo dello spirito è in grado di ritornare indietro nel tempo e farci vedere quelle situazioni da un altro punto di vista, da un'ottica che prima non avevamo considerato. Perciò nella preghiera chiedere a Gesù di riportarci indietro a quei momenti di sofferenza perché lui stesso li possa sostituire con quell'amore che noi annelliamo tanto nella nostra vita. Null'altro ci rende più simili a Dio come quella di essere sempre disposti a perdonare. che il Signore in questa Quaresima ci dia la grazia di imparare ad accusare noi stessi, ciascuno di noi, nella propria intimità, così che abbia il Signore misericordia di me in primis per potermi aiutare a provare vergogna e a darmi misericordia per me stesso in prima persona, così che potrò anch'io poi portarla agli altri. e Gesù, fin dal discorso della montagna, insiste proprio su quella che è la conversione del cuore, la riconciliazione con il fratello prima di presentare un'offerta sull'altare. Quell'amore per i nemici che non è un amore che viene dagli uomini ma che è un amore che viene da Dio, quel perdono che viene dal profondo del cuore, della preghiera e la purezza del cuore, che è la ricerca del regno e tale conversione è tuttora, oggi, per ognuno di noi, orientata al Padre nostro che è nei cieli perché è un orientamento filiale, davvero da figli. Quindi vi invito a guardare in questo ambito, in questo aspetto, dove papà che sta nei cieli è proprio il tuo papà. e può davvero aiutarti molto. Ti ringrazio tantissimo per essere stato con me fin qui. Un saluto e ci vediamo presto. Ciao, alla prossima. Se questo video ti è stato utile, con poco puoi sostenere questo canale, scopri come nella descrizione e ricorda che insieme possiamo diffondere fede e speranza. Con gratitudine, Daniele per la prossima. Ciao. 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 Grazie a tutti